Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un video in cui vi faccio un annuncio. Allora come ben sapete, come forse vi sarete accorti, su questo canale ha cominciato a postare le sue deliranti boiate un certo signore che si autodefinisce razziologo. Uno studioso del comportamento dell'ex senatore Razzi forse, ma lasciamo stare. Come forse avrete visto ha iniziato a impestare la community di stupidate, di commenti tra il delirante e il criminale, ha iniziato a postare, se non propaganda negazionista, quantomeno diciamo propaganda ideologica di bassissima lega. Il signore in questione dopo avermi dato ovviamente e logicamente dell'ebreo levantino discendente dai cazzari che dalle 285, quante cacchio erano tribù cazzare. Quello sei un cazzaro, mio caro, sei un cazzaro con due zeta, ecco. Dicevo dopo aver postato questi deliri io avevo già deciso di bannarlo. Dopo aver letto gli ultimi deliri ho deciso di salutarlo, accompagnarlo alla porta e di fornirgli un simpatico biglietto di sola andata per il Fankulistan, la vicino all'Indocazzostan, ecco, con la sentita preghiera di rimanerci, di restarci e di non tornare più indietro perché secondo me si divertirà tanto e sarà in buonissima compagnia. Quindi, cari signori, salutate il razziologo, salutate il suo disagio, salutate il suo ritardo, la sua ideologia, la sua propaganda, le sue falsità, le sue bugie, i suoi deliri razzisti e soprattutto il suo filonazzismo patetico, siamo sinceri. E quindi arrivederci al mio prossimo video, tanti saluti nuovamente al caro studioso e soprattutto, come sempre e come al solito, ciao!